documenta invece che ho proposto a mio figlio, ingegnere appena laureato, come farebbe qualsiasi padre, la possibilità di incontrare una persona di grande esperienza che potesse consigliarlo nella scelta da fare. La decisione di incalza di telefonare a Stefano Perotti non può coinvolgere la mia responsabilità. Conosco la famiglia Perotti dal 2001. È abitudine mia passare, come è stato dimostrato, delle festività di Sant'Ambrogio prima di Natale con la mia famiglia e con la sua. Conoscono i Perotti mio figlio sin da piccolo. Che bisogno avrei avuto di chiedere a incalza di intercedere per lui? Se fosse stata mia intenzione e non lo era e non l'avrei mai fatto, avrei molto più facilmente potuto farlo io. E non l'ho fatto. Mio figlio lavora in America, dove è approdato dopo che la società di ingegneria architettura SOM al termine di uno stage di sei mesi gli ha offerto un'assunzione. Mio figlio, contrariamente a qualcuno come pensa di ricostruire sempre di retroscena, è stato mandato alla SOM di San Francisco dal Politecnico di Milano, non da altri. Qui ha lavorato la tesi di laurea per laurearsi con 110 elode nel dicembre del 2013. Nel gennaio 2014 la SOM gli ha fatto un'offerta di lavoro. Lui ha chiesto il permesso di lavoro per gli Stati Uniti che è arrivato dopo un anno. Scaduta la prima lettera di employment all'arrivo del permesso, la SOM gliene ha inviata un'altra. Il 2 marzo mio figlio è partito per l'America e da lunedì prossimo sarà dipendente della sede SOM di New York. Nell'anno passato ha accettato l'offerta di una collaborazione a partita IVA, 1.300 euro nette al mese, dalla società Mordi Genova legata a Stefano Perotti. Di fronte alle polemiche italiane, dopo due giorni di telefonate e richieste di informazione da parte dei media, la società americana SOM ha emesso un comunicato stampa in cui ricostruisce la vicenda e spiega perché ha assunto mio figlio, semplicemente perché lo considerano bravo, come credo debba avvenire per tutte le persone che vengono assunte nel nostro Paese e per tutte le opportunità che devono essere a tutti i giovani di questo Paese.